In questo breve video voglio farti vedere un sistema per poter tenere sotto controllo le viste all'interno della mappa delle viste. Non tanto quante viste ci sono, ma più che altro quali sono le caratteristiche che sono memorizzate all'interno delle viste. Quando parlo di caratteristiche intendo tutte le informazioni che possiamo trovare all'interno della finestra impostazioni vista che vengono memorizzate per cui le combinazioni di luci, di la scala, la visualizzazione della struttura eccetera eccetera. Per poter tenere sotto controllo tutte le viste in maniera secondo me particolarmente chiara avere un quadro generale della composizione abbiamo la possibilità di utilizzare gli indici progetto. All'interno della mappa progetto abbiamo la cartella indici progetto. Gli indici progetto sono suddivisi in viste, layout, disegni e modifiche e contenuti set di trasmissione. Quello che a noi interessa è quello di andare a creare un indice di progetto che vada a leggere le informazioni delle viste. Per cui per poterlo fare vado a creare un nuovo indice, nel mio caso sarà appunto un indice delle viste, lo vado a nominare e una volta creato lo vado a comporre. Ho la possibilità di creare un indice di controllo delle viste per tutta la mappa vista. Oppure se vado ad aggiungere un criterio posso andare ad aggiungere ad esempio il criterio cartella mappa vista nel caso in cui, come nel mio caso, ho una mappa delle viste suddivisa in cartello. Ora vado ad aggiungere la cartella, confermo le modifiche fatte e vado ad attivare la mappa vista in modo tale che mentre vado a comporre l'indice delle viste ho la possibilità di vedere che cosa voglio andare a listare. Rientro all'interno della finestra di sviluppo dell'indice delle viste e una volta impostato il criterio vado a selezionare quale delle sottocartelle che ho all'interno della mappa vista deve essere listata all'interno di questa finestra. Vado a selezionare la cartella esecutivo architettonico che è quella che all'interno della mia mappa vista è aperta. Una volta selezionata all'interno della voce campi ho la possibilità di andare ad aggiungere i campi che voglio andare a visualizzare all'interno della tabella. All'interno dell'elenco ho tutta una serie di voci che posso andare ad aggiungere o meno alla tabella. Iniziamo con la voce mappa vista. La voce mappa vista mi permette di vedere all'interno dell'elenco tutte le sottocartelle che ho all'interno della cartella esecutivo architettonico. Una volta aggiunta vado ad aggiungere immediatamente il nome della vista. Potrei aggiungere anche l'id della vista nel caso in cui è un'informazione importante che voglio sempre mantenere sotto controllo. All'interno dell'elenco abbiamo delle voci in colore blu e delle voci in colore nero. Ti ricordo che le voci in colore blu sia per gli indici sia per gli amachi sono tutte quelle voci che noi all'interno della lista abbiamo la possibilità di andare a modificare. Una volta fatte queste scelte vado a inserire tutti gli altri dati. Possiamo magari andare a inserire i dati con l'ordine con cui sono elencati all'interno della finestra impostazioni viste. Per cui partiremo con la combinazione di lucidi che la vado ad aggiungere. Vado ad aggiungere la scala. Vado poi ad aggiungere la visualizzazione parziale della struttura. Proseguo con il set di penne. Con le opzioni vista modello. Con la sovrascrittura grafica. Dopo la combinazione di sovrascrittura grafica aggiungo il filtro di ristrutturazione. Proseguo poi con le quote. E nel caso in cui abbiamo delle viste tridimensionali abbiamo la possibilità di aggiungere lo stile 3d e la scena rendering che eventualmente sono memorizzate. Per ora io però mi fermo qui e vado a confermare. All'interno della mappa progetto dentro la cartella indici di progetto ho l'indice controllo viste che ho appena creato. Lo vado ad aprire. Rimane sempre disordinato per cui vado a effettuare delle modifiche in modo tale da poter andare a gestire meglio le informazioni. Più che altro anche per avere una lettura migliore. Ecco una volta fatte tutte le necessarie modifiche abbiamo sotto controllo tutte le viste che si trovano all'interno della cartella esecutivo architettonico. Possiamo poi andare a ordinare meglio la lista un po' come si fa con gli abachi per cui possiamo ad esempio attivare il titolo in modo tale da poter vedere il titolo della cartella. In questo caso all'interno dell'indice non viene riportato solamente il nome della cartella ma viene riportato anche il percorso e poi abbiamo la possibilità di vedere il nome della vista e poi tutte le caratteristiche che adesso sono associate. Nel caso in cui vogliamo ad esempio avere un ordine per le cartelle infatti in questo caso è partito con la cartella 3d e poi è andato a proseguire con tutte le altre cartelle la prima cosa che dobbiamo fare è andare all'interno delle impostazioni indice e vedere com'è direzionata la freccia. In questo caso è direzionata verso il basso per cui avremmo ad esempio un ordine numerico o un ordine alfabetico. Per avere un ordine numerico volendo possiamo andare ad aggiungere davanti al nome della cartella un semplice numero in questo caso vado ad aggiungere 01 poi vado ad aggiungere 02 poi vado ad aggiungere 03 e prossigo in questo modo. possiamo vedere che all'interno della tabella immediatamente le informazioni vengono ordinate in base alla numerazione impostata. Altra cosa che possiamo fare è ad esempio quella di dare più aria alla nostra tabella per cui se vado a lavorare sulla dimensione delle celle volendo potrei per quanto riguarda l'intestazione principale portarla a 8 mm la prima riga di intestazione magari la porto a 16 mm il titolo lo porto a 8 e la riga valore la porto a 8 in modo tale da poter avere una tabella sicuramente molto più leggibile. Possiamo poi andare a lavorare sulla dimensione del font sia per quanto riguarda i valori e sia per quanto riguarda i titoli e quant'altro. Possiamo eventualmente andare anche a modificare i titoli che abbiamo all'interno della tabella per cui potremmo ad esempio per le combinazioni opzioni vista modello andare a inserire il titolo ovm in modo tale da poter avere un titolo più breve per la colonna. Questo ci permette eventualmente di andare a ridurre anche la larghezza della colonna. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo caricato all'interno della lista. Il vantaggio di avere una lista di questo tipo specialmente se abbiamo tante viste sta nel fatto che possiamo controllare la composizione della vista direttamente all'interno della lista senza dover andare ogni volta ad aprire le singole viste. Certo questo quando abbiamo tutta una serie di impostazioni memorizzate come nel mio caso dove ho per le combinazioni di lucidi associato la combinazione di lucidi corretta alla vista per cui con un nome, stessa identica cosa per quanto riguarda il set di penne, le opzioni di vista modello eccetera. Nel caso in cui abbiamo la necessità di modificare una di queste viste beh possiamo procedere a modificare il nome e lo facciamoli direttamente all'interno della lista senza dover andare ad aprire le singole viste. Possiamo anche decidere di modificare eventualmente alcune caratteristiche delle viste per cui se ad esempio per quanto riguarda dei dettagli vogliamo andare a modificare la scala lo possiamo fare direttamente dalla lista oppure possiamo andare a modificare il set di penne oppure ancora le opzioni vista modello. Tutte queste eventuali modifiche verranno memorizzate all'interno della lista ma soprattutto verranno riportate all'interno della mappa delle viste e ricordati che se la vista è già impaginata all'interno di un layout la modifica verrà riportata immediatamente all'interno del layout per cui verrà aggiornata la tavola.